ciao popoli lega nerd bentornato al nuovo appuntamento con anteprima live la nostra rubrica del mercoledì dove vi parlo in anteprima appunto di un film che ho visto in anteprima e che presto prestissimo più o meno o forse no dipende dalle occasioni vedrete in sala in questo caso di un film che vedrete presto prestissimo ovvero domani oggi parliamo di scary stories to tell in the dark di andre torve lo penso di averlo pronunciato bene o forse no che è stato presentato settimana scorsa alla 14esima festa del cinema di roma presto prestissimo spero arriverà anche la mia recensione scritta su lega nerd il film è prodotto da guillermone del toro del nostro cuore tra l'altro proprio qui che ci osserva che benedice questa bellissima live fatta da me per voi e insomma brevissimo ci guardiamo il trailer insieme e poi vi parlo un po' di questo scary stories che arriva giusto giusto per il periodo di halloween insomma cade letteralmente a faciolo da questo punto di vista il film appunto è diretto non da torveld a andre ovredal torveld chi è un altro regista perché era quello di un altro troll era quello di un altro troll no questo film è diretto da andre ovredal che aveva diretto troll hunter io me lo sono confuso con un suo omonimo di nome ma non di cognome che hanno fatto un film tutte e due con protagonisti i troll e che un paio di anni fa ero arrivato al cinema con un lungometraggio piuttosto interessante di cui vi avevo parlato tanto in live quanto su un pezzo scritto sempre qui su lega nerd ovvero autopsy che non era affatto male era un thriller horror molto molto intrigante sbaccava un po sul finale però come costruzione della suspense secondo me era un film davvero interessante durava tipo 80 90 minuti ci andava veramente veramente in pieno era perfetto se non l'avete mai visto vi consiglio di recuperarlo perché secondo me può essere una visione piuttosto stimolante soprattutto in questo periodo un po orrorifico no un po un po tenebroso invece in questo caso ovredal cambia totalmente registro sebbene continuiamo a restare lì nei meandri del cinema horror però questa volta con delle sfumature decisamente un po più un pochino più creepy più spooky infatti scary stories to tell in the dark trovate anche se vi fate un giretto su internet trovate le illustrazioni e i protagonisti i villain cattivi di questo film secondo me sono fatti molto molto bene sono estremamente simili alle illustrazioni che voi trovate in in rete appunto è tratto da una serie di racconti che sono stati pubblicati tra gli anni 80 e gli anni 90 ragazzi mi suonano alla porta aspettate bello bello il bello della dire diretta ok è un meraviglioso corriere aspettate che facciamo così io arrivo a non vi preoccupate adesso arrivo adesso facciamo tutto tutto quanto nel frattempo famo che vi metto dicevo famo che vi metto al volo in pausa ecco ecco Grazie a tutti. Ci siamo, siamo ritornate, siamo nuovamente qui, siamo nuovamente connesse, il corriere c'è oggi una quantità indefinita di corrieri, va bene una quantità indefinita di corrieri e sono molto sicura che capiterà almeno altre tre volte fino a quando non finiremo questa live. Va bene, vando alle ciance, andiamo a bomba, guardiamoci il trailer e via. Tra l'altro ciao a tutti i giovani, ciao Acio, ciao Cecilia che mi perculate, simpatici, non perculatevi. Chi sarà mai? Come diceva Giovanni, sono alle cinque del mattino, chi sarà mai? Andiamo a vedere. È il bello della diretta, è il bello bellissimo della diretta questo, bello bellissimo della diretta. Allora, prendiamo il trailer, dovremmo esserci, eccoci qua. Molto bene. Ciao il solo, vi odio, vi odio. Voi è l'arancione. Qualcuno crede che se ripetiamo le storie tante volte, diventano reali. Ci rendono ciò che siamo e può essere spaventoso. Beccati questo, Harold. Vuoi vedere una casa stregata? Da quando sono scomparsi dei ragazzi, l'hanno chiusa. Ok, l'abbiamo vista. Ce ne andiamo? Chi è il coniglio ora? Che cos'è? Un libro di storie spaventose. Raccontami la tua storia. Tra l'altro, un trailer è anche abbastanza densa, è abbastanza lungo. E che succede? Tommy è scomparso. Il suo nome era nel libro. Non può esserci un collegamento, vero? E se fosse esattamente quello che succede nella realtà? Oh mio Dio. Oggi! Stella! Sei nella prossima storia? La stiamo leggendo ora. C'è un morto vivente in cerca del suo alluce. Il mio alluce. Il mio alluce. Forse abbiamo risvegliato qualcosa. Non avreste dovuto prendere il libro. Dobbiamo fermarlo! Dovete venire il nostro! Nel libro di Sarah Bellogs, le storie si scrivono da sole e tutto prende vita. E' lui, eccolo, sta arrivando! Ok, eccoci qua rientrati e ritornati. Allora, Scary Stories to Tell in the Dark, vi stavo dicendo, film di Andre Ovredal, prodotto e sceneggiato anche da Guillermo del Toro. Il film si ispira a una serie di racconti dell'orrore pubblicati tra il 1981 e il 1991. Il film si ambienta negli anni Sessanta e gira appunto intorno a questo gruppo di ragazzi che durante la notte di Halloween, classico cliché, si introducono all'interno di una casa. Questa casa si dice, tra virgolette, stregata, in quanto più che stregata, maledetta dallo spirito di quella che era la vecchia famiglia che ci abitava all'interno. In particolar modo della figlia più piccola di questa famiglia che veniva tenuta segregata all'interno della cantina perché a quanto pare aveva una forma mostruosa, non poteva essere mostrata alla società. appunto questa tale Sara Bellow. E Sara sentendosi in realtà molto sola, a quanto pare anche piuttosto frustrata, venne accusata di aver ucciso anche i bimbi del villaggio all'epoca, aveva questo libro di racconti, di storie, dove scriveva appunto queste storie, queste favole macabre, queste favole dell'orrore. I ragazzi si introducono, la protagonista, l'unica o personaggio femminile all'interno del film volendo fare le stesse alla scrittrice da grande, appena vede il diario, il libro delle storie di questa Sara impazzisce, lo vuole, lo prende e se lo porta via, uscendo poi dalla casa senza sapere che in questo modo avvia la maledizione di Sara Bellow che appunto è basata sul fatto che chiunque prenda quel libro automaticamente si formano costantemente delle storie nuove come protagonisti hanno i personaggi poi ovviamente coinvolti nel rapimento del suddetto libro e quindi le storie vengono scritte, si autoscrivono col sangue e non hanno mai un lieto fine. Ovviamente in realtà non tutto è come ci appare perché poi ci sono dei risvolti interessanti che si andranno a scoprire man mano che va avanti il film molto bello, il film si apre con una bella introduzione che se non mi sbaglio non si senta all'interno del trailer che le storie possono fare due cose a volte una storia può curare l'anima e a volte invece può ferire l'anima in questo caso il film nella sua cornice gotica rivolta comunque a un target quasi teen cerca di far capire quella che è l'importanza delle parole, dei fatti e delle leggende tramandate di quanto a volte una sciocchezza detta una volta passando di bocca in bocca automaticamente crea un mito, una leggenda che può distorcere, capovolgere del tutto la realtà e quindi anche rendere una persona un eroe oppure rendere una persona un cattivo e la storia di questo Scary Stories to Tell in the Dark in realtà come metafora ha esattamente questo cerca di portare poi lo spettatore fino alla fine a riflettere sul peso delle parole sull'importanza delle parole e sul valore di ogni parola quello che appunto può una storia al tempo stesso può tanto curare quanto poi invece ferire questa è una cosa molto molto interessante allora il film sì in effetti ha questo in realtà ha un po' una sfumatura teen però non è propriamente teen per dire allora per quanto si muova su quella che può essere una struttura a livello letterario però è alla piccoli brividi a livello più di messi in scena è un po' più maturo rispetto a un piccoli brividi comunque stiamo parlando di un regista che fa un horror per quanto sia un horror quasi più scansonato se pensate a Troll Hunter a differenza di Autopsy però Autopsy già navigava più sulle sponde del thriller invece in questo caso si riprende un po' appunto quello dell'horror usato più che altro come genere per poter raccontare una storia è molto più gotico da questo punto di vista ecco perché io prima ho usato la terminologia creepy e spooky perché appunto lo spooky è il brividino no? spooky no? cose di questo genere però secondo me è anche adatto a un pubblico più maturo può essere usare il termine guilty pleasure non mi sembra estremamente appropriato però insomma vi intrattiene vi rende la serata piacevole e considerando che esce all'interno in America in realtà questo film è già uscito è uscito ad agosto ma sapete che ad agosto in estate il cinema horror in America va tantissimo escono tantissimi horror durante il periodo estivo in questo caso in Italia secondo me ha un'uscita un pochino più consona soprattutto per il tipo di film che è per quando poi viene ambientato perché il film è ambientato inizia con la notte di Halloween in realtà quindi ha molto senso secondo me l'uscita italiana e come film di Halloween in sé per sé credo che sia perfetto è proprio il giusto compromesso fra chi vuole una storia horror ma non vuole proprio una roba dove si deve spaventare a morte trovo che la narrazione del film in sé per sé sia molto piacevole seguo un'unica storia all'interno della quale poi sono frammentate più storie ovvero i più accadimenti che ci sono all'interno della storia principale ogni qualvolta che appunto si crea una nuova favola quindi ogni sera chiamate su chiamate ogni sera c'è una nuova favola con favola horror ovviamente con protagonisti poi i personaggi all'interno del film sono protagonisti e il più delle volte non possono nemmeno inevitare evitare il fatto appunto questo fatto inevitabile questo destino piuttosto negativo raccontato all'interno delle storie di questo libro di queste storie che si autoscrivono all'interno del libro da un certo punto di vista il film ripeto le storie sono carine sono interessanti il cast è molto molto bravo ha questo mood estremamente creepy gotico questa messa in scena si vede che da un certo punto di vista c'è anche lo zampino di Guillermo del Toro perché appunto ricorda le favole gotiche le favole di Guillermo del Toro le ambientazioni in bilico fra il fatato e il gotico di Del Toro al tempo stesso comunque c'è una regia totalmente differente che è quella di Ovredal che è anche una regia un pochino più rigida da diciamo diciamo così una cosa che non mi ha fatto impazzire del film rispetto appunto ad Autopsie è un po' più lungo dura di più dura due ore non è tanto quello quanto più che altro che c'è questa prima parte estremamente lunga perché poi io lo sapete ho un po' questa cosa mi rendo conto che ci mette veramente tanto un film ad arrivare all'incidente scatenante che se avete mai studiato sceneggiatura in teoria in qualsiasi film l'incidente scatenante dovrebbe accadere fra pagina 5 e fra pagina 10 ovvero entro i primi 15 minuti di pellicola quando mi rendo conto perché poi insomma guardando tantissimi film a settimana a volte anche al giorno o comunque se siete appassionati ci fate un pochino l'occhio avete un pochino un sesso senso ecco sviluppato per quanto riguarda le pellicole vi rendete conto che sta passando un po' di tempo in effetti qui per svoltare per arrivare poi al succo vero e proprio di pellico del film della storia ci mette veramente tanto passa quasi mezz'ora ed è veramente tantissimo è quasi mezz'ora di introduzione un po' troppo secondo me si perde il difetto più grande di Scary Stories Tutti in the Dark per quanto poi a me sia piaciuto per quanto vi consiglio di andarlo a vedere ovviamente tenendo conto che comunque parliamo più che di un film horror ma di un film fatto apposta per Halloween una vera e propria favola gotica composta da più favole insieme da più storie insieme ecco ho difetto sul quale è veramente un po' difficile secondo me sorvolare soprattutto se siete particolarmente sensibili poi alle durate di un film o se vi rendete conto che un film un po' sta temporeggiando sta perdendo tempo secondo me la parte iniziale è eccessivamente lunga eccessivamente dilatata davvero a un certo punto vi viene da chiedere sì vabbè ma quando incominciamo ho capito ok tutto bello tutto meraviglioso ma quindi ma quando arriviamo al punto quando è ci metto una mezz'oretta secondo me è veramente tanto magari è una cosa più personale però a mio parere ci mette davvero troppo a tal punto che a un certo punto ho iniziato a pensare che il film fosse ancora più lungo perché poi ve la fa pesare questa cosa cioè più va avanti il film e più in effetti vi pesa un pochino la sentite questa perdita di tempo iniziale inizia poi a farsi sentire tantissimo in parte centrale sul finale perché appunto vi sembrerà anzi addirittura non arriva nemmeno a 120 minuti dura 111 minuti 10 minuti di meno anzi 19 minuti 9 minuti se vogliamo fare proprio i puntigliosi 9 minuti di meno però sembrano di più addirittura sembrano di più quindi questa cosa è l'unico vero elemento che più mi ha lasciato per perplessa poi devo dire la verità per tutto per tutto il resto invece l'ho trovato un film molto ben confezionato molto ben recitato con degli attori giovanissimi tutti i protagonisti Stella appunto Ramon Chuck Oghi che sono appunto i personaggi quattro ragazzi principali attorno ai quali poi gireranno tutte le storie più un altro paio di persone devo dire la verità loro sono veramente molto molto bravi così giovani e già molto molto bravi al tempo stesso un film ecco qua si fa sentire anche un po' alla mano del toro essendo un film ambientato anzi a fine anni 60 e quindi periodo in cui si iniziavano ad arruolare giovanissimi per partire anche per la guerra no per spedirli in Vietnam si inizia anche a far sentire questa cosa cioè in un certo qual senso è anche un film che oltre a riflettere sul peso delle parole vuole anche far riflettere sul senso dell'infanzia sembra un po' che poi queste storie rappresentino anche quelli che sono i primi ostacoli per entrare nel mondo degli adulti che per la prima volta non è più il mostro a letto sotto a letto le favolette che devono far paura ma è proprio la vita al di fuori poi della comfort zone della propria famiglia e ciò che ti aspetta in quel periodo parliamo appunto del 68 è un periodo molto molto particolare è stato un periodo particolare per noi è stato un periodo molto particolare anche per gli americani quindi anche come contesto storico cornice all'interno del quale poi si sviluppa l'intera storia l'ho trovato molto interessante qui per esempio ci ho visto molto di più lo zampino di Guillermo del Toro perché è una cosa abbastanza tipica poi dei suoi film far riflettere in un certo qual senso lo spettatore sul contesto storico e sociale e anche usare poi la fantasia come evasione dalla realtà pensate al labirinto del fauno ho pensato al più recente The Shape of Water anche The Shape of Water riflette tantissimo la cornice degli anni all'interno del quale è ambientato le differenze sociali le differenze razziali che anche in questo film si respirano tantissimo si sentono veramente veramente tanto quindi anche un film molto pensato molto maturo da questo punto di vista che però può arrivare ad un target anche piuttosto anche piuttosto vasto ripeto l'unica vera nota di critica che io mi sento di fare negativa che mi sento di fare nei confronti di Scary Stories su Telling the Dark è proprio questa parte iniziale a mio parere veramente troppo lunga esageratamente lunga che fa perdere anche un po' il ritmo ritmo che poi ovviamente si riprende andando poi finalmente si esce fuori iniziano i vari racconti delle storie l'atmosfera si fa veramente veramente creepy e inizia a diventare molto molto più interessante tranne un personaggio un mostro in realtà tutti gli altri mostri li ho trovati veramente ben fatti in particolar modo lo spaventapassari Harold la storia di Harold è fatto veramente veramente molto bene alcuni sono volutamente cheap ma appunto ripeto volutamente cheap ma sembrano appunto non sono realizzati al computer ma ci sono degli attori veri reali infatti l'unico mostro realizzato al computer è proprio quello che convince di meno perché è proprio finto è proprio posticcio tutti gli altri che invece vedrete all'interno di Scary Stories in the Dark sono comunque o c'è una persona vera o comunque c'è dell'artigianato insomma alle spalle poi di quel di quel costume di quel di quel mostro è una cosa molto molto figa che non sempre si fa anzi purtroppo è sempre più raro anche in questo caso sapete che Guillermo del Toro adora appunto lavorare con non con tanto gli effetti speciali fatti al computer quanto appunto con la vera e propria mano d'opera ecco questo l'ho trovato molto interessante e molto bello secondo me dà ancora più atmosfera al film fa funzionare la pellicola e gli dà un quid in più rispetto a tante altre pellicole anche appartenenti appunto a questo genere anche come colonna sonora molto appassionante accompagna perfettamente ogni scena non ci sono jumpscare gratuiti non c'è la musica ad anticipare il momento in cui ci sarà l'orrore il terrore il brivido il salto sul divano anche perché ce ne sono pochissimi per non dire che non ce ne sono quasi più che altro si tratta di suspense esasperata in cui Ovredal è molto bravo e ne aveva già dato prova secondo me in Autopsy appunto di Autopsy of Jane Dawn che altro potrei dire insomma è un film che vi consiglio fondamentalmente di andare a vedere soprattutto se poi è un genere che c'è se vi piace appunto questo horror un po' contaminato tipico poi delle notti di Halloween è proprio uno di quei film da vedere durante la notte di Halloween insomma vi fa entrare pienamente nella storia pienamente nell'atmosfera poi del film ecco il mostro perché adesso stavo leggendo i vari mostri il mostro che quello che mi ha meno convinto si chiama una delle ultime storie del M.T. Togitai Walker che è appunto questo mostrone che si vede un pochino che cade a pezzi dal camino ogni mostro poi ogni personaggio rappresenta poi le paure dei protagonisti anche qui parliamo ovviamente di un modo diverso di rappresentare la realtà da un punto di vista il cercare una via di fuga da quella realtà e da un altro punto di vista il non aver mai affrontato veramente le proprie paure quelli che poi sono gli ostacoli che segnano un po' un punto di passaggio dall'infanzia bar adolescenza all'età adulta molto molto ben fatto molto molto ben fatto secondo me appunto a parte qualche piccolo difetto il film è estremamente estremamente godibile non non dovrebbe lasciarvi delusi sempre che appunto dovete entrare lì al cinema con l'ottica che state andando a vedere comunque una pellicola non di puro orrore ma bensì qualcosa proprio confezionata apposta per la notte di halloween appunto parliamo di scary stories piccole storie spaventose poi quindi da raccontare al buio cioè in the dark quindi classica scena da tutto intorno al fuoco o con le torce al buio che vi dovete raccontare la più spaventosa storia dell'orrore è proprio quello il mood dell'atmosfera l'ho trovata molto molto carina che da un punto di vista è infantile e nostalgica e poi però cerca anche di far riflettere sulla realtà e su tematiche anche molto attuali con tutto che poi il film è ambientato negli anni 60 a fine degli anni 60 allora gli effetti visivi mi sembrano un po' me come ho detto il solo secondo me alcuni effetti visivi sono ricercati sono volutamente cheap quello il meno che convince te l'ho già detto è riferito ad un unico mostro che è un po' quello che si vede è quasi cioè l'ultima storia prima della conclusione l'ultima storia anche perché poi c'è tutto il risvolto il plot twist finale che è molto molto bello secondo me neanche poi così aspettato o telefonato il target non è propriamente teen whites io credo che sia un target abbastanza esteso in realtà non è poi così così teen con tutto che ci sono i protagonisti teen credo che possa vederlo tanto gli adolescenti quanto gli adulti non non mi sembra una cosa prettamente teen come lo è stato non lo so proprio piccoli brividi la versione cinematografica che insomma lì stiamo parlando proprio di super cheap e anzi secondo me la serie televisiva di piccoli brividi era molto era fatta meglio rispetto poi al film insomma dura meno della metà di irishman beh sì irishman dura veramente un bel po' dura veramente tanto tre ore e mezza tu accio tra l'altro l'hai già visto al cinema no l'hai visto in ah no no ancora non avevo visto shining ancora devo arrivare al cinema tra l'altro irishman giusto arriva il 4 il 5 il 6 su leganerde trovate la recensione della nostra valentina che l'ha visto alla festa del cinema di roma no ispira moltissimo sì 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 comunque passate un paio d'ore piacevoli esatto esatto passate un paio d'ore piacevoli poi questa settimana ne escono un paio di film cioè oltre a scary stories to tell you in the dark che appunto ha questo registro più favolistico vi ho parlato già settimana scorsa ne riparleremo domani pop core time esce anche ready or not finché morte non ci separe che invece è un horror molto più splatterone è molto più ironico e sarcastico che quindi già gioca su un altro registro in quel caso è un film decisamente più maturo poi di questo ecco però magari potete vedere prima l'uno e poi l'altro secondo me tanto il periodo è questo il periodo è super florido settimana prossima arrivano altri film horror quindi va ad arrivare un certo doctor sleep doctor sleep e nulla giovani direi che in linea di massimo abbiamo detto praticamente tutto quello che c'era da dire sul film non so se avete altre curiosità che riguardano appunto scary stories totally in the dark se me le volete dire se ne vogliamo discutere insieme altrimenti a me mi pare di avervi detto praticamente tutto favola gotica composta da più storie pubblico target abbastanza vario la regia è tipicamente quella di andrea ovredal però si fa sentire anche non poco lo zampino nel nostro guillermone il nostro guillermo del toro che ricordo ha sia sceneggiato il film ma anche prodotto il il film film tratto da una serie di racconti che forse si trovano perché i racconti sono un po' vecchiotti ed erano stati pubblicati in tre volumi non in un solo volume forse dico forse non mi sono documentata fino in fondo forse solo forse si potrebbe trovare addirittura proprio il un libro solo penso che per l'uscita del film abbiano fatto una nuova edizione unica perché in genere quando escono dei film lo fanno lo fanno quindi potrebbe potrebbe uscire potrebbe potrebbe essere anzi potrebbe essere già uscito secondo me già uscito e per il resto invece direi che abbiamo detto tutto tra l'altro ci sono diverse tematiche c'è anche un'altra tematica interessante però quella mi sembra un po' quindi non ve ne vorrei parlare perché ci sono un paio di cose che hanno c'è un film che conserva in sé dei potenziali spoiler perciò non vorrei non voglio rovinarvi la sorpresa ve lo dovete ve lo dovete vi dovete dare un'occhiata a voi ok niente ciao comodino ciao a tutti hai già parlato della serie di The Watchmen non ho ancora parlato di The Watchmen qui su Lega Nerd in realtà su Lega Nerd vorrei parlare di Watchmen una volta finito Watchmen sul mio canale ho già fatto un piccolo approfondimento se vi va di cercarmi ovviamente seguite sempre Lega Nerd e se vi va anche di seguire il mio canale privato mi trovate come Gabrielle Croix molto semplicemente Gabrielle Croix ho parlato del primo episodio proprio ieri di Watchmen però come dicevo appunto sul mio canale è una serie che bisogna prima vederla tutta per avere una vera e propria idea completa perché è una serie già tratta da un fumetto una graphic novel estremamente complessa estremamente sfaccettata con diverse chiavi di lettura il primo episodio per quanto figo bello bellissimo lascia più punti interrogativi che altro non è di facilissima comprensione quindi insomma io trovo che abbia poco senso fare una recensione di quel pilot perciò qui su Lega Nerd vorrei poi dedicare un binge stream totale una volta che sarà finita totalmente la serie o magari appunto ci vediamo a metà stagione e poi insomma il fine della stagione perciò diciamo tra metà novembre e metà dicembre dovrei fare uno o due live interamente dedicata a Watchmen qui su Lega Nerd in effetti non facciamo binge stream da un sacco di tempo c'è anche da dire che Watchmen è un caso particolare perché Watchmen tra virgolette è un prodotto per una piattaforma on demand torneremo dopo Luca torniamo con binge stream anche con binge stream non vi preoccupate lol grazie comodino sono contenta sono contenta va bene belli va bene giovani vi ricordo Scary Stories Tuttle in the Dark da domani al cinema domani mattina Massimo dovrebbe arrivare la mia recensione su Lega Nerd comunque domani facciamo un altro po' di chiacchiere qui su Lega Nerd con Popcore Time sempre alle 16 così vi rinfresco un po' la memoria per quanto riguarda Ready or Not Finché morte non ci separi e vi parlo pure del nuovo film di Gabriele Salvatores presentato fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia tutto il mio folle amore ho anche incontrato settimana scorsa Salvatores nei prossimi giorni arriverà la mia intervista su Lega Nerd molto molto bello molto più bello di quanto vi potreste immaginare e aspettare dal trailer così come è stato presentato quindi domani abbiamo un po' di cose di cui parlare per il resto vi auguro una buona giornata su Lega Nerd appunto ci vediamo domani anteprima live non torna la settimana prossima ma torna l'altra ancora perché è arrivato il momento ovviamente di dirlo ragazzi una settimana e siamo ufficialmente a Lucca quindi mercoledì prossimo ci sarà la prima live di redazione da Lucca Comics come ogni anno seguiremo il Lucca Comics da tutti i giorni dal giorno prima fino al giorno dopo perciò seguite il nostro hub dedicato leganerd.com slash luccacg19 e ovviamente su Twitch faremo le live ogni giorno direttamente da casa Lega Nerd con la redazione ci saremo io Antonio Robi e Valentina quindi mi raccomando mi raccomando seguiteci con anteprima live torniamo settimana prossima se vi va ancora di chiacchierare con me mi trovate alle 18 sul mio canale che facciamo un bel focus cinema dedicato a James Bond così rimaniamo in tema horror belli io vi auguro una buona giornata seguite Lega Nerd subate Lega Nerd grossi baci ciao un po' di chiacchierare